Puntata importante, il processo della regata, bentornati, inizia la stagione dal Marina di Forio, siamo a Ischia per la Scheria K24 edizione 2018 con il presidente della Lega Navale Italiana di Ischia, Francesco Buono, pronto alla regata e poi abbiamo dei defender, Edoardo Barni Petrilla, il vincitore della scorsa edizione nella versione per due, Scheria per due e Pippo Osci, niente male, il vincitore overall e poi abbiamo un ospite speciale, uno che non manca mai alle grandi occasioni, alle grandi regate, Pino Stilitano che ha sempre un modo suo di vedere il mondo delle regate e quindi è giusto che ce lo spieghi. Presidente, le ultimissime, siamo a poco dalla partenza della regata, quindi le ultime organizzative, le ultime sul clima, le ultime sugli iscritti e anche un po' di informazioni meteo. Le informazioni meteo diciamo che sono ben, si sta creando un'alternanza tra prima edizione con vento, seconda edizione senza vento, terza edizione con vento, quarta edizione con medio vento. Abbiamo avuto tutto insomma. Speriamo, speriamo che perché si aspetta, avendo fatta quella senza vento posso dire che forse è più massacrante rispetto a quella col vento. Niente, abbiamo dato tutte le informazioni, gli iscritti abbiamo confermato lo stesso numero degli anni scorsi, sono circa 30 barche, 29-30 barche. E' stato deciso alla famosa decisione della vigilia, la cosa più importante che tutti aspettano, si lascia a destra o a sinistra, si gira in senso orario o anti-orario? Questa non è una mia decisione ma del comitato di regata. Il comitato di regata è gelosissimo di questa. Il comitato di regata è gelosissimo di questa sua decisione, dice decido io, voi ne per piacere, no. No, niente, si aspetta comunque un qualcosa che è veramente divertente, veramente appassionante. Ischia da veramente tutte quelle emozioni, quegli scorci, quei panorami, quei profumi. Io ho i profumi di notte, sono qualcosa di spettacolare e credo che o chiunque, come lo possono testimoniare, chi ormai ci ritorna ogni volta, è una regata che piace, una regata impegnativa, molto tecnica perché l'isola è, come disse Pippo Osci che sta a mio fango, è una boa, è un bastone di 24 ore, quindi si lavora, si lavora sempre e al tempo stesso ci si appassiona sempre. Una regata molto tecnica che è iniziata con una cena bellissima ieri sera, proprio qui sul Marina, anche gli eventi collaterali, gli eventi sociali fanno parte di questa scheria K24. Beh, noi giochiamo facile, come si vuol dire, perché abbiamo una location che ci permette di poter sfruttare al massimo queste bellezze, tutti poter offrire un'accoglienza in un posto che riteniamo magico. Ognuno che lo riesce, che lo scopre e condivide questo nostro pensiero e ci ritorna e noi ci teniamo alla nostra isola, siamo innamorati di questa isola, io personalmente mi ritengo un po' cozza, cioè attaccato a questo scoglio. E tutto quello che possiamo fare per poterla promuovere e portarla avanti a noi fa solamente piacere. E non è poco, questa stagione è eccezionale, sono passati qua in Melges, adesso c'è la scheria, ci sarà il campione d'italiano d'altura, ricordiamolo, e lo zonale di altura e mini altura. Pino Stilitano, tu che ne hai fatte tante, ne hai viste tante, cosa ti aspetti da questa scheria K24? L'hai già fatta, te ne hanno parlato, hai delle previsioni tue particolari, come la farete con il vostro X35? Me ne hanno parlato a lungo, mi ha incuriosito, è una formula nuova che credo non si differenzi molto, molto tra delle regate e tra le boe. Infatti le regate lunghe, diritto per diritto, non valorizzano l'equipaggio, questa penso che possa valorizzare le scelte tecniche dell'equipaggio. Io faccio i complimenti a colui che l'ha pensata e a coloro che la stanno attuando, quindi mi aspetto di lavorare molto questa notte purtroppo. Domani mattina speriamo di rivederci qui e scambiarci differenti opinioni, grazie. Avete ragionato su turni, organizzazioni a bordo, mangiare, dormire, questi aspetti qua, oppure H24, tutti in servizio? Ah, io sono talebano, H24 tutti in servizio, mangiare poco perché se non viene sonno, caffè e te molto. Sentiamo se questa teoria dell'H24 tutti in servizio è quella che ha seguito l'anno scorso il vincitore, perché magari è un modo che ci fa capire quale è la tattica, la strategia giusta. Più veterano, eh. E anche il più veterano perché le ha fatte tutte. H24, questa è una regata senza sonno, senza turni, tutta in coperta, anche per godere delle notti schitane? L'anno scorso sicuramente, con i 25 minuti, onda formata, non potevamo certamente permetterci i turni. Questa edizione, probabilmente essendo una regata che svolgeremo con le termiche, visto il caldo che sta facendo, quindi sicuramente alzerà una termica verso l'1 alle 2, e la notte avremo, secondo me, il tempo di fare un'oretta di sonno. A turno vediamo un pochino di organizzarci alla meglio. E niente, speriamo che... Sono qui da sempre, dalla prima edizione, e abbiamo onorato la Lega Navale di Ischia e l'isola stessa, perché merita veramente questa regata. È divertente e nello stesso tempo particolare per il paesaggio e per quello che offre. La cosa, il ricordo più bello che hai di queste partecipazioni, un momento particolare, una notte, un'alba, qualche cosa particolare che vi è successo? Quella dell'anno scorso sicuramente. La prima edizione perché fu particolare, però non era ricchissima. L'anno scorso già che ora il livello di partecipanti sta crescendo, sia numericamente che qualitativamente, e quindi ora sarà sempre più bella. Ma l'anno scorso, col mare e col ventone, ci siamo divertiti e particolari planate sotto i capi e sotto i vari doppiaggi delle varie punte. È stato divertente, vero? Divertente e impegnativa. Io l'ho vissuta personalmente, ero su Fradiavolo, abbiamo anche fatto questa piccola pettinatura, abbiamo scoperto questo famoso scoglio, abbiamo scoperto questo scoglio che è stato poi identificato. Ma l'anno scorso, nei 25 e anche un po' di più, 30 nodi del ponente che c'era, lo scorso anno alla Scheria Cup, uno dei protagonisti è stato Petrilla con Edoardo Barni e con il tuo Martino Toci che è il tuo co-equipier. In due, lo rifarete in due anche quest'anno. Allora, prima Pippo diceva della bellezza dell'edizione dello scorso anno, puoi confermare questa cosa e anche tu l'organizzazione vostra come sarà? Perché in due cosa succede? In effetti la regata in per due è caratterizzata da un percorso che è un quadrilatero, per cui una regata praticamente sulle boe sia pure lungo e espone a un equipaggio per due a un bello stress. L'altro anno non c'era da decidere niente perché eravamo in due e bisognava solo portare la barca. Quest'anno ci saranno gli aspetti tecnici, più manovre, per cui la difficoltà ed è entusiasmante, per questo sarà quello di stare sempre svegli, far sempre camminare la barca, fare poi quando servirà a manovra al momento giusto, riuscire a arrivare alla fine delle 24 ore. Quello è un po' l'impegno che era pure quello dell'altro anno dove ci siamo testati con vento e paradossalmente per certi versi la regata era più difficile, ma era molto più semplice perché si andava sempre dritti, per cui giusto il percorso di Bolina, ma adesso era sempre a camminare, per cui sarà bello vederlo. I complimenti all'organizzazione, al clima e alla partecipazione che ho visto già dall'altro anno a quest'anno, cresciuta parecchio, per cui sarà un piacere andare. Il tuo co-equipie Martino è andato a comprare una bevanda, non facciamo pubblicità, ma insomma bevande per cercare di rimanere svegli nel corso della notte. Un rush finale perché se no ci stiamo arrostendo a questo bellissimo sole ischitano. Tutti e quattro, una sorta di appello a chi ci segue da casa, che vede questa puntata del processo alla regata, perché bisogna organizzarsi per venire dal prossimo anno a fare la Scheria Cup 24? Ma è una regata particolare, come ho sempre detto non è una costiera o una lunga, ma un bastone di 24 ore, quindi anche per chi ama le boe è una regata manovrata ed è divertente, poi offre mille insidie, quindi non è mai scontata, neanche per noi e neanche per i più veloci. Niente, ed è questo. Pino, tu, l'appello diciamo, il tuo esser c'è già un appello perché non avendola fatta lo potrai magari fare dopo. Ma io dico che il motivo principale per fare questa regata è l'accoglienza che Ischia riserve ai suoi ospiti e le capacità degli organizzatori che sono superlativi. Questo per me è il migliore appello che posso fare. Mi accudo a quello che dice Pino, l'accoglienza fa la differenza, sia sotto il profilo umano, organizzativo e del posto. Poi la cosa che a me interessa particolarmente facendo da qualche anno con Martino regate per due è la caratteristica di una regata non banale, non costiera, ma che si avvicina molto a una regata sulle boe e praticabile però da un equipaggio per due. Quindi queste boe nella notte. Presidente, a te l'ultima sentenza, l'ultimo appello? No, vedo che molti dei concetti che volevo dire le hanno detti loro. Una cosa volevo sottolineare, quello che stiamo registrando è la crescita qualitativa dei partecipanti. Cioè in effetti sta camminando anche tra equipaggi che hanno un livello di preparazione molto più alto e questo fa piacere perché in effetti ognuno comincerà a misurarsi in un campo di regate un po' diverso e cominciare anche a fare quell'esperienza che secondo me è spendibile su tante altre realtà, in tante altre competizioni, anche se benché diverse. La vela multidisciplinare, insomma, no? Esatto, e voglio sempre sottolineare, è una formula che ormai è la quarta edizione, che abbiamo solo noi. È vero. C'è una Elba Ble, mi dicono, che fa il giro dell'Elba e si può girare alternativamente a destra e a sinistra, infatti è palindromo anche il nome Elba Ble, però... È sulla distanza. Sì, sì, è certo. Non è sul tempo. Assolutamente, è sulla distanza. Allora, la nostra prima definizione è stata il velodromo dischia. Il velodromo dischia, che in effetti, insomma, si staglia bene. Allora, grazie a Pippo Osci, il presidente della Lega Navale Italiana di Ischia, Pino Stilitano, Edoardo Barni, noi seguiremo la regata, faremo tutto il primo giro dell'isola, poi ci saranno anche tanti altri servizi in questo speciale su Selly TV, state con noi, anche altri processi, altre interviste e un po' di sorprese. Grazie a tutti.